Come si fa a gestire crypto, a gestire bitcoin in una fase di mercato orso? Che cosa ho fatto io? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ci aggiorniamo dopo più di sei mesi. Sei mesi è qualche giorno, qualche settimana, dall'inizio del 2021. Vi ho preparato delle slide con le quali vi farò vedere come sto gestendo io questa fase dei mercati, quali sono i miei investimenti, come sono andati ad esempio quelli che sono alcuni dei miei trading system che utilizziamo anche in Academy, che cosa sto combinando e soprattutto quali sono i miei obiettivi di questa fase mercato orso, come sto andando a cercare di proteggere quelli che sono i miei investimenti e che cosa sto facendo. Video super succoso che mi piace tantissimo ragazzi perché un po' ci aggiorna anche e ci mette anche in contatto perché vi faccio capire un po' anche quello che faccio io, come ragiono, mettetevi comodi perché non è un video lungo ma è un video un pochettino professional, un pochettino complesso perché vi farò vedere tanti tanti numeri ragazzi e un po' insomma sarà simpatico andare appunto a fare queste diciamo queste queste collezioni Lego, questi attaccare pezzi di un sistema mixato con un altro per fare le diverse fasi di copertura, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi e lasciatemi un mi piace per farmi sapere cosa ne pensate di questi video. Allora iniziamo subito, ok ragazzi allora partiamo dalle slide investimenti crypto 2021 come sono stati aggiornati i miei investimenti, quello che sto facendo in questo momento. Allora come sto gestendo i miei investimenti in bear market, quali crypto ho in portafoglio, quali strategie di trading che sto utilizzando e quali sono i miei obiettivi, l'obiettivo che mi sono posto in questa fase di mercato orso e dove costruisco appunto le mie rendite come genero dei rendimenti dalle crypto e dagli asset che ho in portafoglio. Intanto la prima slide è quella più importante di tutti ragazzi, cioè la divisione del mio portafoglio fra crypto, bitcoin e crypto e stablecoin, cioè la divisione fra quella che è la parte investita in crypto e quella che invece è la parte che detengo in stable proprio da qualche settimana barro mesetto perché dopo l'ultimo fake break di realzista il mercato mi ha dato il segnale di uscita da le posizioni hold del mercato, sono anche sincero ragazzi avrei dovuto vendere più parti delle mie posizioni in hold su bitcoin perché diversi trading system mi hanno dato segnali anche alcuni a prezzi molto alti ragazzi pubblicati anche in academy, sono sincero non mi sono fidato delle macchine in questo caso e ho sbagliato perché è stata poi la fase di bassista è stata più pronunciata di quello che mi attendevo soprattutto i termini di giorni, sempre perché appunto mi aspettavo che i mercati non avessero un trend orso così pronunciato, ecco perché non avevo seguito quelle macchine, beh non si può essere perfetti nelle cose, questo è ovvio ed è assolutamente normale per chi investe, per chi fa trading, molti di voi lo sanno già allora la diversificazione tra bitcoin e cripto e stablecoin è questa ed è l'ultima anche che avevo pubblicato nel mio canale telegramma cioè il 70% ancora investito in bitcoin e cripto, attendo un mesetto poi decido se eventualmente iniziare una fase di riduzione di questo capitale intorno al 50% ancora sono un po' indeciso, io il 50 lo volevo mantenere in hold di lunghissimo periodo quindi non sarei comunque uscito al 350 ma questo 20% in più c'è ed è stato secondo me un errore allora stablecoin 30% andiamo avanti ragazzi invece tra le criptovalute quindi tra quelle che sono le parti cripto che vi ho fatto vedere in quel 70% in pratica che cosa c'è dentro? Ok molti di voi qui un po' che un po' probabilmente storceranno il naso. Allora l'85% è su bitcoin, il 10% ragazzi è su eth, poi ho un 5% diviso tra alcune coin insomma che io ho per degli esperimenti che sto facendo che sono gli Ample, poi abbiamo dei token di farming quali CRV, insomma i vari token ragazzi che mi consentono di di fare farming anche quello di Venus insomma ma sono pochissimi veramente ragazzi quindi li tengo perché me li danno durante il farming anche il farm token insomma e altri e poi i token se fai che in questo caso è essenzialmente il CRO è il token Nexo di appunto di Nexo al di fuori di queste di queste cripto quindi in sostanza altcoin per modo di dire ho soltanto Ethereum ragazzi poi ho un 5% diviso appunto fra quello che avete visto Amplefort tra le altre cose doveva teoricamente essere una simile stablecoin non si sta comportando da stablecoin in questo momento proprio perché è un progetto estremamente innovativo mi piace molto come lavoro del team però ragazzi è iper rischioso ok ci sono tanti pro tanti contro come sempre nell'investire in progetti molto giovani e soprattutto che il mercato ancora non ha abbracciato come standard come hanno fatto magari con Ethereum oppure Binance Coin nell'ultimo anno e quindi ovviamente anche lì una scelta fatta più di un anno fa che si sta dimostrando non vittoriosa e anche è vero che non ho perso nulla con quel tipo di coin ragazzi perché oltre che sto guadagnando farming da un anno mi hanno dato anche i fort con la famosa diciamo divisione quindi poi i fort sono stati un numero spropositato quindi diciamo che anche un eventuale ribasso diciamo è stato ampiamente compensato però resta questa la mia struttura quindi non ho cripto valute di altro tipo ragazzi lo so molti di voi magari in questo momento diranno ma com'è possibile una cosa del genere perché non ho altcoin l'ho spiegato anche in diversi video non ho altcoin da marzo aprile del 2021 scelta che è stata vittoriosa adesso ma nella prima parte di nella seconda parte di marzo prima parte di aprile no perché le altcoin erano in bull run quindi io in realtà ragazzi è vero che non ho subito poi una fase di ribasso con le altcoin perché avevo già chiuso e affidato tutto a una macchina un trading system però è anche vero che non ho preso quel pezzettino adesso diciamo sono comunque più basse quindi la scelta è stata comunque oculata poi non si può prendere un timing perfetto su operazioni che ti vanno a fare con scadenza di natura annuale ragazzi ok non sono mai contento di questa operazione perché un trade non è mai contento questo è un po' il mio però sicuramente diciamo molto meglio così allora le operazioni di altcoin sono state delegate tutte ad uno dei miei trading system ragazzi il bot che si chiama in the moonlight che pubblico in academy da un annetto circa forse un po di meno in realtà mi sembra che sia 7 8 mesi circa e adesso vi faccio vedere anche l'esito di questo bot di quello che sta facendo quindi non è che non faccio operazioni in altcoin le faccio con un train system che ha l'obiettivo di salire su un carro quindi salire sul carro nel momento in cui le altcoin dovessero ripartire con una fase di bull run perché io mi attendo ancora che le altcoin abbiano ancora una miccia da spendere abbiano ancora qualcosa da dare e per questo che ancora questo sistema è attivo quindi cosa fa in questo momento cerca di salire poi esce in stop oppure guadagna pochissimo da alcune posizioni nel momento in cui va male la questione ritorna in bitcoin questo è un sistema bitcoin altcoin per questo motivo non ho altcoin in questo momento e non mi fido di detenere altcoin perché non mi piace rischiare in questa fase tantissimo già mi bastano e avanzano gli ethereum che ho allora medio lungo periodo quali sono le strategie che sto utilizzando nel medio lungo periodo in questo momento faccio trading sulle altcoin appunto con questo trading system che è questo qui ragazzi ok quella questa è la fase che vedete di bull run delle altcoin poi da qui il mercato si è andato ad affiebolire io ho delegato a questo sistema tutta la gestione del mio portafoglio altcoin quindi in questa fase da qui in poi ovviamente fa pochissime operazioni quindi qui avete un orizzonte temporale che sarà di più di un annetto circa da questa parte in poi il mercato si è stabilizzato quindi un po' ha perso vedete è sceso da qui e poi sta tendenzialmente lateralizzando quindi è in ogni caso stato un sistema che mi ha protetto moltissimo dalle fasi di ribasso di alcuni portafogli delle altcoin è anche vero però che nelle fasi di bull run il mio portafoglio lo scorso anno di altcoin che poi ho dismesso per affidare a marzo aprile ad una macchina la gestione delle altcoin aveva performato tantissimo ragazzi veramente cifre spropositate quindi è ovvio che a un certo punto mi sono accontentato ve lo dico in maniera molto chiara mi sono accontentato molti in academy non mi hanno seguito in questa scelta hanno continuato a detenere il portafoglio per lo più mi sono accontentato ragazzi per la paura di una fase di bear market molto pronunciata che in questo momento devo essere sincero anche su quelle cripto che avevo da novembre 2020 il portafoglio non è avvenuta però io ho preferito delegare ad una macchina questo tipo di gestione medio periodo faccio trading su bitcoin con uno dei miei trading system in questo caso invece questo trading system è andato molto male la prima volta in due anni quasi tre due anni e mezzo che lo utilizziamo è andato veramente male può succedere nei sistemi di trading ragazzi soprattutto perché in questo caso la motivazione è abbastanza plausibile ed è dovuta al fatto che bitcoin ha sostanzialmente lateralizzato vedete questa fase negativa del trend sistema mid term in questo caso che è una gamba ribassista si chiama drawdown per quanto riguarda il mercato quindi da questo punto in poi questo trend system è stato quello in perdita per quanto riguarda il mio portafoglio e niente ragazzi perché sto delegando il medio periodo di trading su bitcoin a questo trend system è perché anche in questo caso il tentativo è quello di salire su un'eventuale fase di rimbalzo e di ripresa di una bull run in attesa magari anche soprattutto diciamo visto i ribassi degli ultimi giorni che però potrebbe spiazzare moltissimi e quindi potrebbe dare magari grandi soddisfazioni questa è una di quelle macchine di quei train system di quelle strategie che mi consentirà di salire nel momento giusto sul carro e poi decidere quindi un po' ragazzi è vero che sto pagando un po' lo scotto è vero che abbiamo perso però è un po' però è il tentativo di anticipare un'eventuale fase di ripresa è solo long chiaramente quindi non poteva certamente guadagnare però poteva perdere di meno quindi questo è il trading system poi ho utilizzato una serie di trading system invece di accumulo di bitcoin trading quindi di altcoin verso bitcoin anche in short selling e in questo caso questo trend system ha fatto bingo perché anche questo è ovviamente tutto pubblicato in academy da un annetto questo trading system fa incetta di bitcoin cioè guadagna bitcoin ragazzi ed ha fatto i numeri ed è il miglior trading system che sto utilizzando per l'anno 2021 ok diciamo così perché quello sulle altcoin si è assestato mentre questo continua a guadagnare poi questo comunque è un trading system che va a guadagnare bitcoin quindi io lo utilizzo per fare rendita di bitcoin quindi per creare rendita rendita di bitcoin è anche questo automatizzato sul mio conto bitfinex ed è zitt ragazzi questa è la struttura ovviamente anche in questo caso c'è la strategia di short selling ed è proprio per questo che un sistema del genere va a guadagnare perché va in short selling contro le altcoin e quindi ragazzi si guadagna perché il mercato è ribassista le altcoin sono ribassiste contro bitcoin questo sistema guadagna quindi si può guadagnare sempre solo quando si va a favore di trend ricordatevelo allora poi altra struttura trading discrezionale breve periodo bitcoin ed ethereum ma anche il short selling di copertura non ho mai perso con questo tipo di trading discrezionale solo negli ultimi periodi ho iniziato diciamo ad avere delle fasi delicate io uso in questo caso per fare trading discrezionale il broker prime xbt eccolo vi faccio vedere direttamente il mio conto qui che utilizzo mai da sempre ho fatto una serie anche di video poi prelevo ogni tanto in questo caso ho prelevato negli ultimi mesi c'è ancora un po' della plus valenza però c'è un'operazione in perdita insomma in questo caso sto andando a fare un po' di manovre ragazzi però questa è una fase veramente delicata e poi soprattutto non mi va di stare tanto sui grafici quindi sto operando poco nell'ultimo mese come sempre ragazzi vi lascio il link di prime in descrizione se volete iscrivervi a prime xbt avete anche un coupon con il 25% di sconto sulle fee quindi se andate a iscrivervi dal link in descrizione mi date anche una mano perché utilizzo prime per questo tipo di trading quindi il trading di natura discrezionale perché è quella che mi dà una leva maggiore facilità di ingresso facilità di uscita con gli ordini posso mettere poco capitale utilizzare la leva o il funding negativo quindi mi viene pagato se vado in short insomma ragazzi lo ritengo uno strumento utile poi da sempre hanno le cripto valute come valuta e quindi mi consente anche di utilizzare le cripto quindi bitcoin per fare trading quindi questa cosa è interessante mi sono trovato bene lo utilizzo da un annetto e quindi continuo ragazzi vi lascio il link descrizione per quanto riguarda prime quindi il trading discrezionale lo faccio così ragazzi lo faccio a braccio e ovviamente è un tipo di trading che dipende anche dal mio tempo come ben sapete quindi in questa fase magari ne ho un po' di meno quindi sono meno attivo da questo punto di vista quali sono gli obiettivi che mi sono posto con questo tipo di gestione adesso vi ho fatto vedere tutto quello che ho nel mio portafoglio e come è stato suddiviso interamente ma quali sono gli obiettivi che mi sono posto nella fase attuale di mercato di mercato orso ragazzi ok allora intanto vabbè si appare sempre quando clicco nel bottone sbagliato l'iscrizione al mio canale telegram ragazzi ok iscrivetevi a tradingon.it allora essere pronto a rientrare full long su una nuova fase di bull market questo per me è stato il primo obiettivo che mi ha spinto a ragionare creando questa divisione che vi ho appena fatto vedere e poi il secondo obiettivo è stato limitare al minimo le perdite di una fase bear market perché alla fine non si può andare a guadagnare una fase di bear market se noi gestiamo un patrimonio lo si può fare con le operazioni come vi ho fatto vedere che fanno short selling quindi o faccio uno short di copertura che è partito tra le altre cose lo short di copertura l'ho pubblicato in academy veramente mesi fa anzi faccio una cosa vi dico anche proprio il giorno preciso perché è un trading system che io ho presentato alla conference del 2019 ragazzi pensate un po' ed è andato in short selling il 12 di maggio dalla short a 55 8 e 31 ho pubblicato questo segnale il 13 di maggio scorso in academy questo train system ha fatto short in copertura e la strategia che ho presentato proprio alla conference chi di poi era lì nel 2019 mi ha visto fare lo speech io ho parlato di quella strategia lì ha funzionato molto meglio di quello che pensavo io stesso non ho seguito quella cosa e come vi dicevo avrei dovuto farlo ragazzi a volte però così però l'idea di fondo mia attuale è quella di limitare le perdite di una fase di bear market quindi andare a costruire con i trading system che vi ho fatto vedere prima quelli short andare a limitare il più possibile le fasi di ribasso andando a togliere capitale intanto alla parte old e poi allo stesso tempo utilizzare i trading system per fare rendimenti e coprire quello che perde l'altra parte old perché esattamente così è stato ragazzi alla fine dei conti al di là del trading system mid term che per la prima volta nella sua vita ha fatto un ribasso importante detto questo ragazzi basterebbe anche una sola operazione positiva del mid term per recuperare interamente tutta quella perdita che avete visto giusto per capire come è costruito quel sistema però al di fuori del trading system mid che vi ho fatto vedere le perdite di un portafoglio in questo momento sono tutte ancorate alla parte old come sempre avviene in queste fasi tutti gli altri sistemi stanno compensando quelle perdite lì allora è un po no l'equilibrio dalla della bilancia quindi se da una parte io voglio ho voluto mantenere la parte old nel mio portafoglio perché credevo in una fase credo ancora una fase di ripresa nei prossimi mesi del mercato non mi aspettavo una fase così importante di ribasso e soprattutto così lunga dall'altra parte però mi sono dovuto proteggere ragazzi ma ovviamente non avrei mai potuto guadagnare quindi il mio obiettivo non era guadagnare in questa fase ma limitare le perdite il più possibile e proprio tenermi pronto in un'eventuale fase di bull run se non sarà così deciderò poi man mano di ridurre ancora di più i rischi e pian piano uscirò ovviamente ho fatto il possibile non si può diciamo vincere e fare il 3000 per cento ogni volta ragazzi ok non sono cose normali poi nella gestione di portafogli i portafogli si gestiscono così limitando i rischi ok portare rendimento appunto compensare le minus della parte old come vi ho spiegato come ho creato questo rendimento trading system alt verso btc in particolar modo perché mi ha creato il 65 per cento di rendimento non tutto questo 35 per cento io l'ho preso perché c'è una parte anche di commissioni del del train system ma fa pochissime operazioni comunque sono in circa al 42 per cento perché io poi ho iniziato anche un po più tardi di quel sistema ad agganciarlo in maniera proprio reale sul mio conto e poi in questo caso appunto la defa e la se fai con le stable anche la se fai la defa in questo contesto assumono una veste importantissima perché se da una parte ho tolto quel 30 per cento e l'ho trasformato di stable l'ho messo immediatamente a rendita ragazzi ve lo dico chiaramente tutte stable messe a rendita perché perché quelle stable coin mi compensano le eventuali minusvalenze della parte old nel tempo che passa questa fase di bear market quindi è vero che la compensazione non può essere totale perché da una parte abbiamo un 70 per cento contro un 30 per cento però poi utilizzo anche i trading system per andare a aumentare ulteriormente questa compensazione morale della favola ho ridotto moltissimo le perdite di questa fase di questa fase di bear market ma non le ho annullate quindi non vi pensate che questa cosa sia un edging puro non è così ma non mi interessava però certamente invece di perdere magari il 40 50 per cento sul portafoglio mi ritrovo un meno 20 che è una bella differenza rispetto a fare a meno 50 c'è una differenza enorme ragazzi meno 50 parlo ovviamente del picco massimo di bitcoin allora questa è la mia idea questo è quello che ho fatto questa è la mia attuale situazione ricordatevi un po sapevo che il video insomma sarebbe venuto un po così ragazzi perché è un professionista quando gestisce gli investimenti lo fa in questo modo quindi chi vi dice fesserie cioè chi dice magari cose più banali più semplificate in nì a volte stanno in piedi assolutamente però ricordatevi che non è così semplice poi quando si mette mano alle cose in realtà non è neanche poi così tanto difficile perché come avete visto l'idea generale di proteggersi nella fase di mercato orso è quella di creare rendimento con sistemi di trading e rendite se fai defai quindi alla fine insomma una struttura intelligente nell'attesa di una bull run arriva non arriva questa bull run nuova arriva una nuova fase per la fine dell'anno cosa ne pensate voi come state gestendo voi questa fase qual è il vostro portafoglio anzi ragazzi facciamo anche una bella cosa farò una diciamo una richiesta anche a tutti voi di mandarmi via mail quello che è il vostro portafoglio perché voglio fare un video di commento di tutti i portafogli che mi mandate poi farò anche un una messaggio sul mio canale telegram e sul mio canale instagram di questa cosa perché se mi mandate via mail uno screenshot commentiamo insieme questi portafogli magari alcuni potrò dare anche buoni consigli va bene fatemi sapere cosa state facendo e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao